Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipili e in tutta la rete autostradale toscana. Sulla Fipili restringimento di carreggiata nel tratto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina per lavori in corso, possibili disagi per la viabilità. Sulla strada regionale due via Cassia, senso unico alternato per lavori tra i chilometri 268 500 e 269 900 nel comune di Barberino Tavarnelle. A Firenze via di Careggi rimarrà chiusa tra via Bolognese e via Incontri a causa di un intervento urgente che si concluderà lunedì 8 marzo. Ricordiamo che fino al 15 aprile è in vigore l'obbligo di catene a bordo, l'uso di pneumatici invernali su autostrade, superstrade, statali ed extraurbane. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!